Che altro c'era? Avvicinarmi? Giusto, devo avvicinarmi! Ma a che cosa? Io non mi avvicinerò a te. Guardami in faccia. Ma chi è? Però mi sembra di averlo già visto da qualche parte, ma dove? Ho detto girati, se no non posso vederti in faccia. Non ho soldi con me! Ma è sangue! Perché continuano ad accadermi queste cose? Devo essermi sbagliato. La sua non è affatto una recita, inoltre è chiaramente preso dal panico. Se fosse un membro di passione, non reagirebbe in questo modo. Per non menzionare la sua goffagine, deve essere soltanto un civile qualsiasi. Tranquillo, voglio solamente prendere il mio coltello. Non ti disturberò più. Non mi sento tanto bene! La mia testa! Due metri! Aspetta. Il mio intuito mi dice che hai fatto qualcosa di molto sospetto prima. Vedi, quando eri caduto, hai istintivamente nascosto una busta, non è così? È sotto il tuo piede sinistro. Che cosa stai nascondendo? Se me la farei vedere, ti lascerò in pace. Mamma, che cosa vuoi da me? Ho detto che non ho soldi! Lasciami stare! Sembra che tu non abbia intenzioni ostili. Ma adesso non mi puoi più ingannare. Alzati, solleva il piede sinistro e fammi vedere. Mi hai sentito? Alzati! Ah, è soltanto una busta. Non c'è niente lì dentro. La tua non è affatto una recita. Inoltre si vede che non sei in grado di mentire. Ma ciò non ha fatto altro che incuriosirmi ancora di più. Tu sei definitivamente un portatore stand. Hai sentito quel suono, non è così? Ti sei appena girato verso la sua direzione. Questo suono è un accurato giro di ricognizione. La fonte di quel suono è... Erosmith! Finalmente sono arrivati. Ma tu, cosa ci fai in un posto così importante come questo? Significa che il boss deve avere molta fiducia in te. Ma sento che nel tuo cuore c'è della paura vera. Le due cose si contraddicono a vicenda. Fa silenzio! Sei tu quello che deve avere paura d'ora in poi! Ho capito. Stai correndo verso di me perché il tuo potere è a corto raggia. Sarà di due o tre metri. Tuttavia, la tua fine è vicina. Ma cosa? La mia gola! Queste sono lamette! Mi servono solo due metri, cavolo! Metterò queste tue lamette dove non batte il sole! Ho detto che la tua fine è vicina. Impossibile! Di nuovo! Dai! Lascia pureُ La mia gola! La mia gola! Appena scanda! Imposa per la tua fine! Ciao! 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 Grazie.